Lo sguardo rivolto al cielo è una bellezza eterea, pura e immortale, così avvolta negli abiti rossi e azzuri come colori della sua Catania tra fiori di zagara e riccioli d'oro, il maestro del fumetto mondiale Milo Manara ha immaginato e disegnato Agatha rendendo la protagonista del manifesto di Etna Comics 2023 in programma dall'1 al 4 giugno al centro fieristico del sciminiere di Catania. In realtà questo manifesto che vedete alle mie spalle doveva essere l'immagine scelta per il decimo anno di Etna Comics, quella dell'edizione 2020, che è ovviamente saltata per discorsi pandemici, è saltato il 2020, il 2021, poi nel 2022 abbiamo utilizzato un'immagine di Gabriele Dell'Otto, la rinascita, questa specie di araba fenice che abbiamo inventato noi. Noi avevamo in cantiere questo grande capolavoro fatto dal maestro Manara nel 2019 di fatto e quindi non potevamo non utilizzarlo, anche perché in realtà fa parte del nostro percorso, cioè raccontare la città di Catania, la città che ospita Etna Comics, che per qualche giorno diventa l'ombelico del mondo della cultura pop e quindi perché non potevamo non raccontare il simbolo, il personaggio simbolo per eccellenza della città che ospita Etna Comics, che è Agata. Lasciare quella suspense da social network e quindi darci la possibilità di poterlo fare con i tempi che la macchina Etna Comics necessita, però vi posso garantire che ci saranno ospiti internazionali, ci saranno delle novità che verranno annunciate Etna Comics, di personaggi che cercheranno di cambiare anche il loro percorso lavorativo, lo annunceranno Etna Comics, se vedrete che sarà molto figo quest'anno. La nostra intenzione è quella di restare ancorati alla città di Catania, di anzi far parte sempre di più della nostra città, magari ampliando le zone dedicate alla manifestazione con delle novità che vi annunceremo più avanti.